Le devo dire che in generale noi abbiamo in Italia oggi una situazione totalmente squilibrata dal punto di vista dell'attenzione politica. Noi abbiamo un campo, i migranti, che assorbe il 70%, l'80% dell'attenzione politica mediatica dei dibattiti. Poi abbiamo il grande campo del lavoro, dell'industria, dell'economia che è quasi ignorato. Io credo che la prima cosa da fare sia riequilibrare, proprio in termini di lavoro, di attenzione e consapevolezza, l'azione del governo. Qui abbiamo centinaia di situazioni di crisi, dalla Jabril, alla Whirlpool, all'Ilva, a Taranto, ad Alitalia. Ancora nessuno sa che succede per Alitalia. Qui i soldi sono finiti e ancora non c'è una cordata credibile che si proponga per la gestione di Alitalia. Qui rischiamo veramente un disastro e continuiamo ad essere ossessivamente concentrati. La nave, la nave, la capitana, la carola, le palle, le pille. Quindi la prima osservazione che mi sento di fare è questa. Vediamo di dedicare il tempo e l'attenzione necessarie ai problemi del lavoro, del mondo del lavoro, rispetto alle vicende che riguardano le navi e i migranti. Per i migranti, io la penso così. Innanzitutto dovremmo fare un'operazione verità, anche qui. Mentre ci concentriamo ossessivamente su 42 migranti che sono sulla Sea-Watch, contemporaneamente, a fianco alla Sea-Watch passano decine di barche, barchini, barchette, camotti che fanno sbarcare sulle coste italiane, decine e decine di migranti. Ma questa è una cosa a manicomio. Cioè noi stiamo lì a fare la guardia al bidone e i migranti arrivano tranquillamente, non con le navi più grandi ma arrivano ormai con piccole imbarcazioni. Primo problema, ce ne siamo accorti sì o no dove vanno a finire questi migranti. Secondo problema. Ora noi abbiamo doveri di umanità e doveri di sicurezza. Doveri di umanità. Io penso che quando abbiamo persone che non mi interessa sapere come arrivano, rischiano la vita. Donne incinte, bambini abbandonati. Quando abbiamo davanti agli occhi le immagini delle torture subite da queste persone nei campi libici, noi non possiamo girare la testa dall'altra parte. Abbiamo un dovere umano, cristiano, elementare. Io non mi sento di chiudere gli occhi di fronte alle immagini che arrivano dei campi di concentramento che ci sono in Libia. Quello è un inferno. E dunque il dovere di salvare le vite umane è un dovere prioritario su tutto. Poi c'è un altro capitolo che riguarda quello che si sta facendo in concreto per risolvere il problema. Che è un problema gigantesco. Sentivo ieri dei numeri. Il presidente della Libia, quello riconosciuto, ha minacciato di liberare 7-8 mila migranti contenuti ospitati, rinchiusi nei campi di concentramento. Stiamo parlando di 7-8 mila persone. Non di milioni. 7-8 mila. Questo è il numero. Allora, premesso che io considero francamente irritante e insopportabile l'atteggiamento di chi guida una nave, prende i migranti e pretende in maniera assoluta di sbarcarli in Italia. Io la considero una posizione francamente insopportabile. Nessuno mi convincerà del fatto che la nave Sea-Watch, che è rimasta ferma 17 giorni con i migranti a bordo, non potesse andare, non dico a Marsiglia, ma in Corsica, che è sopra la Sardegna. Non dico la Libia, la Tunisia, l'Egitto. No. In un altro porto d'Europa. Perché non hanno tentato? In 17 giorni arrivavano a Rotterdam. Allora c'è un atteggiamento francamente strumentale che mi pare irritante è insopportabile nei confronti dell'Italia. Nei confronti dell'Italia. Detto questo, c'è il problema del governo, cioè della soluzione dei problemi. La soluzione dei problemi è in Europa ed è in Africa. In Europa, quando il ministro dell'interno Salvini, su 7-8 riunioni dei ministri dell'interno europei, si presenta una sola volta. Perché quando si governa non è prioritario fare le campagne elettorali, fare la politica politicante. Quando si governa, si governa. Cioè il 90% del tempo deve essere dedicato ai problemi, non alle bandiere di partito. dunque il primo rilievo critico che faccio è questo. Se sai che devi risolvere il problema con l'Europa, non puoi essere assente il 90% delle riunioni che fanno i ministri degli interi. Perché è lì che si decide. È lì che puoi batterti per avere delle quote di distribuzione in Europa. Secondo, quello che mi impressiona è l'assoluta mancanza di una proposta italiana per l'Africa. 7000 persone nei campi di concentramento. Ma davvero impossibile avviare un'iniziativa in sede di ONU, di Nazioni Unite, per pretendere che siano le Nazioni Unite a gestire i campi di accoglienza in Africa. Questa è un'altra cosa che a me pare incomprensibile. Cioè le Nazioni Unite intervengono a fare guerre in Afghanistan, in Siria, dovunque nel mondo, nel corno d'Africa. Poi per tutelare 7000 migranti che sono in Libia non hanno possibilità di intervenire, anche con i caschi blu. Allora c'è questo vuoto di iniziativa che a me pare inaccettabile da parte del governo. Perché l'Europa deve essere mobilitata e oggi è assente. E bisogna mettere in campo delle iniziative in Africa per filtrare il flusso di migranti. Ho la sensazione che siamo più interessati a fare propaganda che a risolvere il problema.